Io ho fatto 5 o 6 film a Napoli e grazie a De Sica, Ettore Scola con Maccheroni, con Jack Lemo, persino lui era sbalordito, forse si aspettava accertamente, lui aveva portato una valigia di medicinali, chissà cosa gli avevano detto a Hollywood, qual era, vai a sapere cosa poteva prendere a Napoli e invece si rese conto che non era così, che era una città amorevole, piena di simpatia per lo straniero, non ruffiana, neanche furba, intelligente da capire che bisogna spremersi le meningi per risolvere, mi ricordo un cameriere, un uomo di fatica, quelli che dopo mezzanotte cominciano a passare l'aspirapolvere sulle mochette, eravamo al bar, Jack Lemo, Ettore Scola e Dio e facemmo le due tra una vodchina e l'altra, quando decidemmo di andare a dormire ci avviamo all'ascensore e c'era questo Giovanni che stava pulendo con l'aspirapolvere la mochette e l'ascensore, allora senza perdere una frazione di secondo disse così, non vi sporcate le scarpe, ora io dico ma si può inventare una battuta più geniale, certo per ricevere una mancetta o come ogni sera mi accompagnava, io dottor vi accompagno, ma dove mi accompagni? Sono anni che vengo qui all'Eccensio, ogni volta mi vuoi accompagnare in camera, ma lo so al quarto piano, numero 402, io vi accompagno, è inutile lottare con un napoletano, è meglio rendersi subito e apprezzarne lo sforzo che fa, arrivate alla porta, infiliate la chiave nella toppa, dottor la vita è una facciata al balcone, non so me l'hai detto ieri sera, l'altro ieri sera, hai ragione, la vita dura una frazione di secondo, è una facciata al balcone e poi le imposte si richiudono. Se non ritratto non lo posso avere, e perciò con sta codacca, nei tuorite faccio tacca, che le vengono là per là, e io mi vado a sviluppare. Tappo papà la foto, tappo papà la foto, io mi vado a fare la favollezza mia, io metto a foc tacca, tu sei venuto già, fatto, 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 fatto. Signore e signori, ed ora l'esimio muestra Raffaella Capece vi farà ascoltare un pezzo classico da solo. I signori preferiscono Bacca, Vivaldi, Davenosa. Preferiamo essere lasciati in pace. Vengono. Grazie. Dieci mila generale. Don Raffaele, queste me le prendo io e stiamo a pace di quelle che vi ho date stamattina. A me? Perché voi non lo sapete, è venuto vostro padre a prenderseli. Donna Filoma, io tengo due guai nella vita mia, Apoglio Melita alla gamba e mio padre, con l'aggravante che dalla Apoglio Melita si può guarire da mio padre. A proposito, stamattina mi ha telefonato Giardini il biscazziere, ha detto che ci dovete andare urgentemente stasera. È arrivato guai numero tre. A Roma, per esempio, in via del Corso, io lo percorrivo a piedi anche un po' imbarazzato perché si è diventato un mercato arabo, pieno di gente con i blue jeans strappati, fanno avanti e indietro, secondo me non sanno neanche loro dove stanno andando. E sentì dietro di me uno che fece, ammazza le rughe, hai visto come si è invecchiato? Detto forte perché io potessi sentire, non so se lo dicesse a una ragazza o a chi, ammazza le rughe. La stessa cosa mi è accaduta a Napoli. Marcelli, se si è mai fatto vecchiarie, pulite un caffè, ma vedete la differenza? Che garbo, che gentilezza d'anima. Io amerei vivere su un pianeta tutto napoletano perché so che ci starei bene. Napoli va presa come una città unica, molto intelligente. Napoli è troppo speciale. Marcello, ti devo dire una cosa, aspetta un momento. Dopo, dopo, dopo. Ci vediamo di sotto. Allora hai? Perfetto giunto. Punta! Spacchia! Spacchia giunto! Ah Marcellino, stai bene così. Mi piace? Pubblicità. Eh, a me non me la offrono più, mannaggia. Eh, lo so, è una fortuna. Hai conosciuto Sergio? Ah, Felini Giove. Questa è Antonella. Ma non lo potevo fare io perché mi reggo in piedi. Scusa, eh. Ah, già. La tua fidanzatina è da loro. Una delle mie fidanzatine. Eh, lo so. Chi mi ha detto? Ah, ecco lui. Dice che lo suoni benissimo. Mi è venuta una mezz'idea per il finale. Poi ti dico. Senti, Marcellino, è una fortuna che sei qua. Pensavo che solo tu... Vieni, vieni un momento. Voi siete in pausa adesso, no? Oh, ma che davvero sono in quella fare là? È molto da sede. Sì, è pure adesso. Ah, strumento. Invece mi sentivo... Ah, Gino? A casa no, non c'è... Dai. E c'è dove ne pensate? Ma dove andate quest'albero? Roberto! E perciò che è un piccolo omaggio floreale. Marcello, per favore, la sigaretta. Non me lo ricordavo. Era una maniera diversa di fare il cinematografo. Quando si dice che è confusione, che è casino. Sembra un cinematografo. È un modo di dire. E Fellini diceva, mentre tutti fanno casino, io posso pensare. Se stanno tutti lì aspettando, io dico il verbo. E questo mi rende la giornata più complicata. Ed era sempre per paradosso. Guido, mi ha detto mio marito che dispiacerebbe se per Capodanno vada a casa un giorno solo. Ma se non vuoi dico che non posso. Sì, mi pare di sì. Carlotta, su. Chi è quella negretta? È una sorpresa che ti abbiamo fatto. Vieni dalla vai. Non te la ricordi? Ce ne parlavi sempre. Grazie, Luisa. Come sei gentile. Che pensierino delicato. Quell'iodema è per me. Ti lo so, poi te lo regno. Che emozione ritrovarla qui. Come stai? Beh, ma mi tolga una curiosità, bella signora. Chi è lei? Non importa il nome, sono felice di essere qui. Non domandarmi niente. Posso restare? Ma certo, carina. Adesso ho da fare. Ma dopo? Anche tu, Guido, Stella, che ci fai? Il grillo parlante di Pinocchio. Ti disturbo? No. Ma perché arrivi? Niente. Voglio soltanto vedere come te la cavi. Finalmente ci sei riuscito ad avere lo tuo armo, eh? Re Salomone. Non era ora? Era ora, certo. Mettetemi dentro. Guido, dimmi. Ma non hai un po' di paura? Paura di che cosa? Va tutto benissimo. Non potrei restare anch'io. Mi diverto tanto, non voglio niente. Ti guardo solo. C'è un regolamento da rispettare, lo conosci? Vieni, aiutami. Mettetemi dentro. Guido, dimmi. Ma non hai un po' di paura? Paura di che cosa? Va tutto benissimo. Non potrei restare anch'io. Mi diverto tanto, non voglio niente. Ti guardo solo. C'è un regolamento da rispettare, lo conosci? Vieni, aiutami. Guido, completo distrusso con colbacco. Ti va bene questo? Oh, ciao, Eddie. È bellissimo. Ma questo regolamento com'è? Non so niente. Mi ha promesso una parte nel film. Ma ha detto che dovrò cambiare i tanti vestiti. Il suo amore poi per gli attori, per i suoi attori lo esprimeva anche in quei dettagli che poi non è ricapitato con altri registi. Forse anche perché le sue storie erano diverse. La sua attenzione ogni mattina alla truccatrice o al truccatore guarda che qui hai messo un po' più di nero di ieri. Io come facesse a vederlo non lo so. Cioè l'ansia di esaltare i suoi attori. Diceva a Giuseppe Roturno, il suo operatore preferito, fallo bello, lo devi fare bello. Allora Peppino dai una bacchettina di fontoriflettori qua per stringere un po' le mascelle perché dice c'hai la faccia da Burino, da provinciale. Il tentativo di allungarmi le dita. Ma come le allungiamo le dita? Con dei cappucci di plastica. In notte e mezzo. Non potendo darmi quell'aria lui voleva più da intellettuale perché diceva che avevo delle mani da contadino non potendo allungare le dita allora dice togliamogli tutti i peli dal petto perché il petto villoso ti aggiunge troppa virilità io voglio che il mio intellettuale sia più fragile e più delicato almeno nell'aspetto esteriore. Allora fu tutto depilato con la cera a strappo proprio perché in una certa scena nel casale famoso a un certo momento mi si vedeva così quasi a torso nudo e aveva ragione lui quando diceva fallo bello falla bella perché c'è l'attore, il tradunione fra l'autore e il pubblico se il pubblico non è affascinato da un viso, da un fisico non la segue la storia con lo stesso interesse ripeto parlo di un cinema diverso dagli altri dove forse questa era una necessità come accadeva con il cinema olivudiano di quando io ero giovane rivedendo di fatti alle volte alle televisioni con i vecchi film io mi accorgo come John Crawford per esempio avesse sempre delle ombre qui in luce hanno lasciati solamente gli occhi che ce ne aveva belli ero turno doveva fare le capriole per farmi diventare più bello e in qualche caso non dico che fossi bello ma certo ero stato valorizzato questo è sicuro il leone d'oro ha la carriera per l'attore a Marcello Mastroiani consegna il premio Federico Fellini caro Marcello tu mi ricordi? sono il tuo alter ego io ho fatto anche parecchi film brutti sì è vero ma su 170 all'incirca una ventina magari saranno stati anche brutti specialmente agli inizi della mia carriera e forse anche dopo ma questo è accaduto perché uno deve farsi vedere al cinema non è che può scegliere idealmente il film che vorrebbe fare alla volta accetta già sapendo dal copione che non sarà un buon film ma sempre confida nella fortuna e visto mai che poi gli succede qualche cosa che il film magari invece diventa bello oppure oppure perché ha bisogno di soldi è in arretrato con le tasse oppure perché si sente già di vazzo allora vuole l'automobile fuori serie che è lo status symbol dell'attore arrivato almeno questa era una volta oggi meno poi via via che il successo arriva aumenta allora bisogna avere la villa poi magari anche una piscina e poi magari anche uno yacht io questo l'ho fatto è vero così perché questi obiettivi rappresentavano la conquista certo di un successo anche di un benessere diciamocelo pure allora i film brutti perché rimpiangerli nessuno ti ha obbligato a farli e poi tutto sommato mi hanno fatto le ossa perché il mestiere dell'attore è fatto anche di mestiere la capacità di andare a quel segno senza guardare in terra la capacità di rimuoversi senza la soggezione della truppo che ti sta attorno senza la paura della macchina da presa quest'occhio implacabile che ti fotografa anche dentro anche a questo servono i film brutti o sbagliati io ne ho fatti parecchi all'inizio non è che arrossisco ripensandoci allora mi vergogno un po' mi ricordo un film tragico ritorno dove io finivo nella legione straniera dimoriamoci accusato di un amicidio non commesso naturalmente ora sono qui parlo di andarmene non me ne vado ma perché? e qui non c'è nulla che mi trattenga io non ti piaccio vero? sì che mi piaci mi sei sempre piaciuta ma non mi ami non me ne importa perché ti amo io l'ho sentito subito mi dispiace perché me ne andrò non posso regarmi a te ma sono io che voglio regarmi a te ah poi la principessa delle Canarie con Silvana Pampanini ho un ricordo tenero di Silvana vestita poi sembrava un indiano una pelle rossa io non so che questo popolo detto dei guanci nelle isole Canarie ogni mattina arrivava truccata bellissima e al regista gli diceva Paolo sono regale io poi ho sempre avuto le gambe magre quindi le dovevo imbottire per via di questi pantaloncini di velluto che si fermavano a mezza coscia e poi con la spada io non avevo attitudini alle armi infernale nel ricordo sono forse le cose più divertenti di questo mestiere ma poi come si fa a fare sempre dei buoni figli io se avessi fatto solo dei buoni film avrei paura di me stesso questi sono privilegi dei santi i santi non hanno mai sbagliato gli eroi a parte che poi a me i santi eroi mi stanno pure antipatici quindi bisogna che sia un diagramma così di sali e scendi anche perché se tu sbagli un film e il successivo invece lo indovini è buono è è un'ebrezza che provi ma se li fai tutti buoni alla fine sei sempre sullo stesso piano ed è anche meno divertente sembra paradossale quello che dico ma c'è una verità madamina il catalogo è questo delle belle chiamò il padron mio un catalogo gli è che ho fatto io osservate leggete con me osservate leggete con me in Italia 640 in Almagna 231 100 in Francia in Turchia 91 mai di Spagna mai di Spagna mai di Spagna sono già mille e tre mille e tre mille e tre ma di Spagna ma fra queste contadine la migliore cittadine ma contesse baronesse marquesine e principesse levantate ogni grado ogni forma ogni forma oggi compio 72 anni ma è una bella età quando ne avevo 20 immaginando 72 anni l'avrei visto come un vecchio bacucco ma io non mi sento così vecchio forse perché ho la fortuna di lavorare senza arresto e sono contento che questo mio compleanno coincida con questo film in mezzo a queste montagne irraggiungibile quindi via tutte le cose ufficiali gli auguri l'articolo il meggiante le manifestazioni anche di simpatia di entusiasmo mi affaticano un po' mi annoiano un po' queste cose e non ho un cattivo carattere ma forse per alcuni versi si ma in generale sono molto paziente e accomunante ma non buono come molti dicono perché ci c'è tanto buono poi cerco l'altro dice ma che buono come un figlio di tutt'ana basta bene cosa vuoi veramente grazie a tutti grazie a tutti Clare grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti c'è un bellissimo racconto di kafka il prossimo villaggio lui dice mio nonno soleva dire che la vita è straordinariamente breve ora nel ricordo mi si contrae al punto che per esempio io quasi non riesco a comprendere come un giovane possa decidersi ad andare a cavallo sino al prossimo villaggio senza temere che persino lo spazio di tempo in cui si svolge felicemente la vita possa bastare anche lontanamente ad una simile cavalcata quando ero giovane mi sembrava che la vita fosse lunghissima eterna adesso invece quando guardo all'indietro mi accade di dire già ma quel film quando è che l'abbiamo fatto cinque anni fa ma che cinque anni fa quindici anni fa quindici anni fa da giovane quando si sale a cavallo per compiere questa cavalcata si pensa che sarà un viaggio che non avrà fine lunghissimo e poi invece è raggiunto una certa età ci si accorge che questo prossimo villaggio non era molto lontano che veramente è stata una cavalcata breve brevissima la vita si ci si accorge a una certa età che è passata così come e il villaggio è lì vicino grazie a tutti io ti guardo io ti guardo così tu mi guardi tu mi guardi così perché 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 guardandoti è come se una musica cantasse nel mio cuore io ti parlo ti racconto di me ti racconto di me ti racconto di me Perché, perché vicino a te accade tutto ciò Chissà se questo è l'amore Chissà se questo è l'amore Alla fine sei sempre sullo stesso piano Ed è anche meno divertente Sembra paradossale quello che dico ma c'è una verità Madame mia, il catalogo è questo Delle belle chiamò il padron mio Un catalogo gli è che ho fatto io Osservate, leggete con me Osservate, leggete con me In Italia 640 In Almagna 231 Cento in Francia e in Turchia 91 Mai di Spagna Mai di Spagna Sono già mille e tre Mille e tre Mille e tre Ma fra queste contadine La migliore cittadine Vancontesse, baronesse Marchesine, principesse Levantate da ogni grado, da ogni forma Da ogni forma Oggi compio 72 anni Ma è una bella età Quando ne avevo 20 Immaginando non 72 anni L'avrei visto come un vecchio bacucco Ma io non mi sento così vecchio Forse perché ho la fortuna di lavorare Senza il resto E sono contento che questo mio compleanno Coincida con questo film In mezzo a queste montagne Irraggiungibile Quindi via tutte le cose ufficiali Gli auguri, l'articolo, l'immeggiante Le manifestazioni anche di simpatia Di entusiasmo Mi affaticano un po' Mi annoiano un po' queste cose E non ho un cattivo carattere Ma forse per alcuni versi sì Ma in generale Sono molto paziente e accumulante Ma non buono Come molti dicono Perché ci c'è tanto buono Poi c'erco l'altro Ma che buono Un figlio di tuttana Basta bene Cos'è lui Poi veramente E F.I.I.I.F.E.I.I.F.E.Y.O. R.A.F.E.I.I.I.I. URRA! 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 C'è un bellissimo racconto di Kafka, il prossimo villaggio. Il suo amore poi per gli attori, per i suoi attori, lo esprimeva anche in quei dettagli che poi non è ricapitato con altri registi, forse anche perché le sue storie erano diverse. La sua attenzione ogni mattina alla truccatrice o al truccatore, guarda che hai messo un po' più di nero di ieri, io come facesse a vederlo non lo so. cioè l'ansia di esaltare i suoi attori diceva a Giuseppe Roturno il suo operatore preferito fallo bello lo devi fare bello allora Peppino dai una bacchettina di fontoriflettori qua per stringere un po' le mascelle perché dice hai la faccia da Burino da provinciale il tentativo di allungarmi le dita ma come le allunghiamo le dita? con dei cappucci di plastica in notte e mezzo non potendo darmi quell'aria lui voleva più da intellettuale perché diceva che avevo delle mani da contadino non potendo allungare le dita allora dice togliamogli tutti i peli dal petto perché il petto villoso ti aggiunge troppa virilità io voglio che il mio intellettuale sia più fragile e più delicato almeno nell'aspetto esteriore allora fu tutto depilato con la cera a strappo proprio perché in una certa scena nel casale famoso a un certo momento mi si vedeva così quasi a torso nudo e aveva ragione lui quando diceva fallo bello falla bella perché c'è l'attore il tradunione fra l'autore e il pubblico se il pubblico non è affascinato da un viso da un fisico non la segue la storia con lo stesso interesse ripeto parlo di un cinema diverso dagli altri dove forse questa era una necessità come accadeva con il cinema olivudiano di quando io ero giovane rivedendo di fatti alle volte alla televisione quei vecchi film io mi accorgo come John Crawford per esempio avesse sempre delle ombre qui in luce hanno lasciati solamente gli occhi che ce ne aveva belli ero turno doveva farle capriole per farmi diventare più bello e in qualche caso non dico che fossi bello ma certo ero stato valorizzato questo è sicuro il leone d'oro alla carriera per l'autore a Marcello Mastroiani consegna il premio Federico Fellini caro Marcello do you remember me? sono il tuo alter ego io ho fatto anche parecchi film brutti sì è vero ma su 170 all'incirca una ventina magari saranno stati anche brutti specialmente agli inizi della mia carriera e forse anche dopo ma questo è accaduto perché uno deve farsi vedere al cinema non è che può scegliere idealmente il film che vorrebbe fare 10.000 a giornalì non Raffaele queste me le prendo io e stiamo opace di quelle che vi ho date stamattina a me perché voi non lo sapete è venuto vostro padre a prenderseli donna Filomea io tengo due guai nella vita mia ha poliomelite alla gamba e mio padre con l'aggravante che dalla poliomelite si può guarire da mio padre a proposito stamattina mi ha telefonato il giardino il biscassiere ha detto che ci dovete andare ruggentemente stasera è arrivato guai a Roma per esempio in via del corso io lo percorrevo a piedi anche un po' imbarazzato perché si è diventato un mercato arabo pieno di gente coi blue jeans strappati fanno avanti e indietro secondo me non sanno neanche loro dove stanno andando e sentì dietro di me uno che fece ammazza le rughe hai visto come si è invecchiato detto forte perché io potessi sentire non so se lo dicesse a una ragazza o a chi ammazza le rughe la stessa cosa mi è accaduta a Napoli Marcelli ci siamo fatte vecchie arielle unitemi un caffè ma vedete la differenza che garbo che gentilezza d'anima io amerei vivere su un pianeta tutto napoletano perché so che ci starei bene Napoli va presa come una città unica molto intelligente Napoli è troppo speciale è troppo speciale Marcello ti devo dire una cosa aspetta un momento dopo dopo ci vediamo di sotto orrai perfetto giù tutto ah Marcellino stai bene così mi piace pubblicità e a me non me la offrono più mannaggia eh lo so è una fortuna hai conosciuto Sergio? una feline ma non la potrò fare io perché mi reggo in piedi scusa la tua fidanzatina da allora una delle mie fidanzatina chi mi ha detto ah ecco lui dice che lo suoni benissimo è venuta una mezza idea per il finale poi ti dico senti Marcellino è una fortuna che sei fai pensavo che solo tu vieni vieni un momento voi siete in pazza adesso no? oh ma che davvero soni quell'affare là è molto da sede sia pure te soni ma strimpello ah Gino Gino vado adesso allora ma compagno Marcellino sì ma faccio però certo vieni anche tu tanto nella ricordamelo eh vieni vedrai una bella sottola dai ma dove andate quest'albero? Roberto pensavo che è un piccolo omaggio floreale Marcellino per favore la sigaretta non me lo ricordavo buoni film io se avessi fatto solo di buoni film avrei paura di me stesso questi sono privilegi dei santi i santi non hanno mai sbagliato gli eroi a parte che poi a me i santi eroi mi stanno pure antipatici quindi bisogna che sia un diagramma così di sali e scendi anche perché se tu sbagli un film e il successivo invece lo indovini e buono è è un'ebrezza che provi ma se li fai tutti buoni alla fine sei sempre sullo stesso piano ed è anche meno divertente sembra paradossale quello che dico ma c'è una verità madomina il catalogo è questo delle belle chiamò il padron mio un catalogo gli è che ho fatto io osservate leggete con me osservate leggete con me in Italia 640 in Almagna 231 100 in Francia in Turchia 91 mai di Spagna mai di Spagna sono già mille e tre mille e tre mille e tre mille e tre ma fra queste contadine cameriere e cittadine vancontesse e baronesse marchesine e principesse di ogni grado di ogni forma di ogni età di ogni forma di ogni età ogni forma di ogni età perché ho la fortuna di lavorare senza arresto e sono contento che questo mio compleanno coincida con questo film in mezzo a queste montagne irraggiungibile quindi via tutte le cose ufficiali gli auguri l'articolo poimeggiante una manifestazione anche di simpatia di entusiasmo mi affaticano un po' mi annoiano un po' queste cose e non ho un cattivo carattere ma forse per alcuni versi si ma in generale sono molto paziente e accomodante ma non buono come molti dicono perché ci c'è tanto buono poi c'è quell'altro e dice ma che buono io ho figlio di puttana va a sapere cos'è lui poi veramente vengo qui all'Eccelsio ogni volta mi vuoi accompagnare in camera ma lo so al quarto piano numero 402 ma io vi accompagno è inutile lottare con un napoletano è meglio rendersi subito e apprezzarne lo sforzo che fa arrivate alla porta infilate la chiave nella toppa dottor la vita è una facciata al balcone e non so me l'hai detto ieri sera l'altro ieri sera hai ragione la vita dura una frazione di secondo è una facciata al balcone e poi le imposte si richiudono qui ci vediamo quasi ogni momento ma chi stupasse non ti fa contenta a notte come faccia a te perè se non ritratto non lo posso avere e perciò con sta cotacca nei toni te faccio tacca che le vengono là per là e io mi vado a sviluppare e io mi vado e io mi vado la follezza mia io ne tappo che tacca tu sei venuto già fatto 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 fotografa signore e signori e ora l'esimio muestra la fe la capisce vi farà ascoltare un pezzo classico da solo i signori preferiscono Bach Vivaldi Davenosa preferiamo essere lasciati in pace degno grazie 10.000 giornali non la fe queste me le prendo io e stiamo opaci di quelle che vi ho date stamattina a me perché voi non lo sapete è venuto vostro padre a prenderseli donna Filomeo io tengo due guai nella vita mia ha poliomelite alla gamba e mio padre con l'aggravante che dà la poliomelite si può guarire da mio padre a proposito stamattina mi ha telefonato il giardino il biscazziere ha detto che ci dovete andare urgentemente stasera è arrivato guai numero 3 a Roma per esempio in via del corso io lo percorrevo a piedi anche un po' imbarazzato perché si è diventato un mercato arabo pieno di gente con i blue jeans strappati fanno avanti e indietro secondo me non sanno neanche loro dove stanno andando e sentì dietro di me uno che fece ammazza le rughe hai visto come si è invecchiato detto forte perché io potessi sentire non so se lo dicesse a una ragazza o a chi ammazza le rughe la stessa cosa mi è accaduta a Nantes Marcelli ci siamo fatti vecchi aria eh